Bel di freschi, post partita nel campo dietro la mia reggia, post partita ovviamente di Milan-Lazio, Lazio-Mina, che cazzo era? Beh, altra partita convincente ragazzi, cioè alla fine scuso il derby con l'Inter dove Inzaghi ha massacrato Pioli proprio a livello tattico, tutte le altre partite secondo me sono state preparate bene, abbiamo vinto in modo agile tutte le altre partite, tranne con il Verona abbiamo giocato un po' non troppo bene, con la Roma stavano rischendo di fare la solita mossa da sfigati romanisti, alla fine però è andata bene, quindi bella partita posso dirvi, abbiamo giocato bene, ha segnato Capitano America, che tra l'altro l'Alfanta si goda ampiamente, bell'assisi di Leao, ha fatto il secondo gol di fila a Okafor, giocato bene, non abbiamo preso gol, difesa più solita del solito, hanno fatto forse un tiro in porta, comunque, no, forse un tiro in porta no, ne hanno fatti forse di più, però comunque è andata bene, partita solida, in difesa, centrocampo in attacco, Reinders si conferma un gran bel giocatore, peccato per l'infortunità, speriamo che non sia niente di grave, magari sono anche uscite le analisi, non lo so, e bene, bene, io continuo ad essere molto fiducioso in questa squadra, cioè nonostante il 5-1 con l'Inter, io ripeto sempre che per quanto tu possa prenderne 30, è sempre una partita, vale 3 punti, se vinci, ne vale 0 se perdi, quindi io non sono assolutamente preoccupato, secondo me l'Inter è comunque favorita, perché ha dei titolari più forti, ha delle riserve più forti e nel complesso ha un allenatore magari non più forte nel lungo periodo, però più forte secondo me nel complesso, quindi, quindi io vi dico, io vi dico che l'Inter per quanto rimanga favorita, io ho un minimo di speranza, non troppo, ho un minimo di speranza per, cioè io sono convinto che faremo un gran bel campionato e un minimo di speranza per lo scudetto c'è, poi ovviamente non siamo i favoriti, se non lo vinciamo sicuramente non mi incazzo perché già all'inizio anno le premesse per vincerlo erano, non ce ne erano comunque, o erano basse, però le cose stanno bene, cioè scuso il derby e non ho iniziato a recriminare al Milan in campionato e tranne vabbè la partita col Verona che abbiamo giocato un po' così, però nel complesso bene bene, sono contento e vediamo la partita col Borussia che dovrebbe esserci fra due giorni, mercoledì mi sembra, bella.